Continua il viaggio di Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato ai bambini di tutto il mondo, alla scoperta dei segreti del mondo archeologico dal sito di Pompei. Geronimo, dopo aver raccontato in alcuni video le bellezze dei siti vesuviani, svela questa volta i segreti e il mestiere degli archeologi, intervistando direttamente chi opera sul campo a stretto contatto con le meraviglie emerse dalla cenere e dai lapilli del Vesuvio, che coprirono l'antica città di Pompei duemila anni fa e approfondendo il lavoro dei restauratori, che intervengono in sito o in laboratorio sui reperti, gli oggetti e gli affreschi ritrovati durante gli scavi. Un video con duplice intervista a un archeologa e una restauratrice del parco, a cui il direttore dell'ecoerroditore rivolgerà le domande per i più piccoli, per comprendere il grande lavoro affidato ai professionisti e l'archeologia. Dallo scavo vero e proprio, con la rimozione dei singoli strati di terra, come sfogliare una cipolla in cucina, al rinvenimento dei reperti, al loro studio e contestualizzazione che aiutano a comprenderne la storia, l'attività e la vita quotidiana di una certa epoca, fino all'inventario e alla conservazione degli oggetti rinvenuti. E poi il successivo delicato intervento dei cosiddetti dottori delle opere d'arte, che con grande pazienza devono rimettere assieme ai frammenti preziosi, restaurarli e riportarli al loro originario splendore. Geronimo Stilton, protagonista di tanti libri apprezzati ai giovani lettori, è già stato testimonial d'eccezione di un progetto per il sito UNESCO Pompei Ercolano Torreannunziata, rivolto ai giovani cittadini e al territorio, in collaborazione con l'osservatorio permanente del Centro Storico in Napoli, sito UNESCO, che ha avuto come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza e la sensibilità dei più giovani nei confronti del patrimonio culturale mondiale. A proposito di scavi, sono molto curioso. Come funzionano e che cosa fate quando trovate i reperti antichi? Il bello dello scavo, infatti, è che ogni volta è sempre una sorpresa. Scavare è un po' veramente come in cucina quando lavoriamo con la cipolla, perché il nostro lavoro consiste nel rimuovere gli strati di terra, gli strati che vengono chiamati in dettaglio unità stratigrafica e ogni strato di terra ci racconta un'attività del passato. Dallo strato di terra capiamo se abbiamo una pavimentazione, un deposito, un deposito di rifiuti, quindi veramente sfogliando la terra riusciamo a ricostruire tutte le attività e scendiamo sempre più in fondo fino ad arrivare a quello che noi chiamiamo lo strato naturale, cioè lo strato più antico, il paleosuolo, dove non c'è traccia dell'attività umana. Ciao, io mi chiamo Elena e sono una restauratrice qui a Pompei, per cui lavoro sempre in stretto contatto con gli archeologi e il nostro compito principale è quello di prenderci cura dei reperti che provengono dallo scavo. In che modo? Prima di tutto li puliamo dal terreno e dai depositi di scavo piano piano, perché dobbiamo immaginarci quasi come una persona che viene svestita improvvisamente o qualcuno che passa dal caldo al freddo all'improvviso. Quindi via via rimuoviamo i depositi di terreno, prima con il pennello e poi con delle soluzioni a tamponcino e sempre facendo molta molta attenzione. Infatti non so se lo sapete, si dice sempre che noi restauratori siamo i dottori delle opere d'arte e si dice anche che noi dobbiamo avere tanta tanta pazienza. Difatti per restaurare un piccolo frammento ci vogliono diversi giorni e tante fasi e tra una fase un'altra bisogna anche aspettare del tempo.